Ben ritrovati, siamo aumentati, Simona di numero, siamo tanti, no, ti diamo perché Vincenzo... No, ridiamo perché è un momento bello, anche in qualità siamo aumentati, perché parliamo ma proprio di sorrisi Marco, sono delle cose davvero molto importanti che ci piace raccontarvi, ci piace trasmettervi perché tutti noi possiamo contribuire a regalare un sorriso a chi ha bisogno. Vedete, il nostro studio è diventato davvero molto, molto numeroso perché vogliamo parlare in questo momento della fondazione Teodora che noi possiamo sostenere, tutti noi, questa è una fondazione che regala un sorriso a tutti i bambini che sono in ospedale, allora diamo subito il benvenuto qui in studio all'avvocato Emanuela Basso Petrino, benvenuta, direttore generale della fondazione Teodora Onlus. Ben trovato. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo anche due grandi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, possiamo dire una coppia, una coppia dal cuore d'oro, benvenuti Massimiliano Risolino. Buon pomeriggio. E Natalia Titolano. Ben trovati. Sono due dei grandi personaggi che sostengono questa bella iniziativa, un'iniziativa che arriva direttamente al cuore del clown. Il vero protagonista. Il vero protagonista. Il dottor sogno. È lui, il dottor sogno, è lui che porta davvero grande sorriso a questi bimbi che hanno bisogno. Benvenuto Paolo Di Santo. Sì. Giusto? Salve a tutti. Innanzitutto qual è la sensazione? primariamente che lei ha entrando in queste strutture che sono strutture impegnative, difficili. Spieghiamo cosa fa. Appunto. Quando entro in ospedale inizio sempre proprio a provare una sensazione di camminare su delle bolle di sapone, le quali poi mano a mano diventano bolle di vetro e poi invece trovo un terreno solido per poter ricominciare a raccontarsi perché ci raccontiamo sia noi che chi sta intorno, i bambini soprattutto, ma anche i genitori. Ricordiamo che se c'è un malato in una famiglia c'è una frattura in una famiglia e quindi la cosa più importante è quella di far ridere, ma far ridere insieme sia il genitore che il bambino, magari stare lì in secondo piano ed essere disposto anche in qualche modo a prendersi in giro in generale perché il gioco scavalca le strutture, gli stereotipi e porta a raccontarsi. Senta Paolo, quanto è difficile? Io credo sia veramente complicato riuscire a far sorridere. C'è una forza interiore enorme, spaventosamente grande perché riuscire a far sorridere un genitore, un bambino che sta male? Sì, guardi, non è facile, infatti la prima cosa che bisogna fare quando si entra in ospedale è non dire per forza ecco sono arrivato e ti faccio ridere, ma magari presentarsi e aspettare che il bambino ti accetti, noi chiediamo prima di entrare in una stanza se possiamo stare un po' di tempo con loro e la cosa importante è essere, ecceomo, essere l'uomo che è in te e però non basta, quindi il gioco, l'uomo chiede aiuto al clown per poter insieme tagliare i fili di quella tensione che inevitabilmente hanno a chi ha la malattia, hanno i genitori ma ce l'hai anche tu. Io dico sempre che in quel 15 minuti che stai in quella stanza tutto quello che accade in quel posto ma soprattutto anche quella malattia ti appartiene perché se non ti appartiene non puoi lavorarti. Ci chiama l'avvocato Basso Petrino come nasce? 45502, ricordiamo. Intanto ricordiamo il numero di SMS 45502 per aiutarci a realizzare un progetto molto concreto che è quello di portare il sorriso ai bambini ricoverati nei reparti di alta complessità dove ci sono le patologie più gravi, quindi in Italia sono ben 14 e con questo progetto vogliamo continuare a far sorridere anche questi bambini. La fondazione nasce in Svizzera 18 anni fa, ormai quasi 19, in Italia con l'obiettivo di portare un momento di gioco, di ascolto, di sorriso ai bambini ricoverati come diceva Paolo anche alle loro famiglie perché l'intervento che è un intervento individuale costruito ad hoc per ciascun bambino ha un beneficio diretto sul bambino che curando la parte sana del piccolo ma anche sulla famiglia perché ovviamente quando un bambino è malato tutta la famiglia ne è colpita. Non sono una famiglia, sono Massimiliano e Natalia, sono una famiglia bellissima con due figli bellissimi e un cuore grande perché voi vi siete uniti anche per questa causa. Due cuori e un sorriso, possiamo dire così Natalia? Sì, possiamo dire così penso. Noi siamo capitate parecchie volte nell'ospedale da bambini io direi che veramente entrare nell'ambiente da bambino e specialmente da genitori ci vuole un professionista ci vuole un professionista, ci vuole persone che sono preparate, che sono molto corrette, molto attenti per regalare un sorriso non è facile. Perciò io dico che veramente abbiamo bisogno di quel personaggio e spero che tutti insieme riusciamo veramente a aiutare. Come nasce il vostro coinvolgimento Massimiliano? No, nasce appunto da, perché noi in effetti a me mi hanno scritto una delle cose utili di questi social che a me è capitato più volte di essere contattato dai genitori che hanno scritto la letterina dell'ultimo desiderio del bambino purtroppo in questi reparti così. Perciò la fondazione appunto ci ha invitato a conoscere questi reparti a conoscere i loro clown, i loro operatori e cercare di far capire alle persone, anzi 45, 502 ma incominciamo a mandare qualche sms, far capire da vicino che cosa succede. Uno collega sempre all'ospedale a un luogo in cui uno non può dire una parola, un luogo sacro perché bisogna avere rispetto di chi entra, però certe volte il genitore fa fatica a far ridere il bambino perché sembra quasi che non sia la priorità farlo ridere ma farlo stare bene. Invece il sorriso aiuta e il clown, come ha detto Natale, il professionista non deve soltanto farlo ridere capito perché gli ha fatto il solletico, gli ha fatto vedere un paio di giochine che mi ha fatto vedere a me che mi ha fatto già ridere, ok? Però lo fa sciogliere, fa sciogliere anche il genitore fa capire che quei cinque minuti che aspetta il proprio clown, cinque minuti in cui può interagire con una persona che è lì, che non deve farlo ridere ma deve farlo sciogliere, è una cosa che uno sottovaluta e secondo me la Fondazione Teodora ha fatto un progetto che mi auguro che grazie all'aiuto delle persone da casa riescono a portare avanti per tantissimi anni ancora. Natalia, stavi aggiungendo qualcosa? Scusa Vincenzo. Loro studiano una persona, a volte non è che lavorano con la massa, loro veramente lo sanno da chi entrano adesso lo sanno che patologie c'è quel bambino, lo sanno tutto, che problema hanno famiglie, genitori, che difficoltà hanno e lavorano proprio specifico per... molto individuale, solo ogni bambino. C'è sicuramente un lavoro da un punto di vista psicologico. C'è una formazione specifica, mi piace dirlo, perché ovviamente tutti i nostri clown dottori che sono ben 28 in tutta Italia hanno una formazione specifica iniziale e continua che consente loro di avere gli strumenti di cui parlava Natalia per poi fare questo intervento ad hoc sul sicuro bambino. Ma si impara, se si impara, si impara a fare il vostro lavoro? Guardi, distinto di pancia mi verrebbe di dire di no. Sicuramente il lavoro dell'attore, del clown, dell'improvvisazione, della messa in discussione continuamente in un lavoro comunque artistico, quello ti permette di entrare in un'emotività, quindi sentire. Noi lavoriamo molto sull'ascolto, no? Sento che ci vuole questo. Molte volte mi rendo conto che faccio delle cose e non le faccio per istinto. Poi vado a casa e ragiono, per esempio... Sì, è un elemento empatico molto sviluppato. Guardi, se posso permettermi di raccontarvi una breve storia che è capitata proprio all'ospedale di Bologna con una mia collega. Entriamo in questa stanza e c'è una dottoressa dietologa che appena ci vede e dice, ecco, c'era una bambina di 12 anni, dice, ecco, ora fatelo alzare da quel letto perché lei mangia e scrive col cellulare e non si muove mai, fate qualcosa. Il che ci assume di una responsabilità abbastanza enorme, il che insomma già ci porta da 10 a 5. Però lì in qualche modo abbiamo iniziato a lavorare, a dire, insomma, a fare le nostre gag, le nostre cose e poi ogni tanto io facevo un tormentone che impari a teatro, dice, però sta dottoressa, guarda, ci ha messo proprio in una situazione difficoltosa, però vabbè, insomma, e continuavo a fare i clown, poi dice, però sta dottoressa, guarda, Matteo ha fatto un po' arrabbiare pure te, sì, pure a me mi ha fatto un po' arrabbiare. Si cerca il canale comunicativo, no? A un certo punto mi viene l'idea e gli dico, senti, ma andiamo a fare una cosa pazza, cioè andiamo, mandiamo la dottoressa a caucciù a chiedere della dottoressa, di chiamare la dottoressa, la facciamo uscire nel corridoio, e quando lei ci delvia noi ci mettiamo a correre come i pazzi per tutto il corridoio, però tu pensa, cioè questa è un'idea, sai, i clown sono un po' pazzi, tu decidi che cosa vuoi fare, dopo un po' lei mi chiama e dice, sì, ma quando è che la facciamo sta cosa? E in realtà facciamo proprio questa corsa attraverso questo corridoio, io avevo capito che nel reparto si poteva fare, non c'era nessun caso difficile, quindi c'era anche questa attenzione, cioè capire anche l'atmosfera dell'ospedale. Facciamo questa corsa, la dottoressa chiaramente gli arriva il sorriso dietro le orecchie, e a un certo punto arriva la caposale e ci dice, ah, che state facendo qua, state correndo? Sì, voglio correre pure, facciamo un'altra bella corsa tutti quanti insieme. Perché infatti è una cosa che diceva adesso Paolo, che è importante da sottolineare, che spesso poi i clown dottori diventano anche il trait d'union tra le famiglie e i medici, perché a volte i bambini sono anche in difficoltà, non riescono a comunicare anche solo la loro sofferenza, il loro dolore, e questo è un modo straordinario che invece noi cerchiamo nel nostro piccolo di aiutarli a comunicare, anche a superare le paure della malattia, del ricovero, e quindi è un lavoro, devo dire, straordinario. Grazie anche a due amici come Natalia e Massimiliano, contiamo sull'appello di tutti voi per mandare tanti sms. La personalizzazione, che solitamente uno quando pensa a una persona, a un clown, a una figura, è che è il lavoro di gruppo, perciò la loro missione, comunque il lavoro duro, è quello di trovare e riconoscere gli occhi. Sì, solitamente l'artista non guarda mai negli occhi la persona, in questo caso sì. Veramente, ci auguriamo che possa diventare un gioco per le famiglie, perché purtroppo sembra quasi veramente, uno entra in ospedale e uno si dimentica poi quello che uno può tirare fuori di positivo. A trait d'union, ci sta il traduttore, la famiglia, e appunto magari questa figura che sembra soltanto di passaggio, ma è una figura che poi rimane nel tempo, perché poi ci hanno raccontato, abbiamo visto con i nostri occhi, che comunque ci sta l'attesa, perché le visite sono su base settimanale, quindi questo consente anche al bambino di avere un'aspettativa positiva, quindi di aspettare da una settimana all'altra la visita del dottor Sogni, che porta appunto un momento di gioco, di ascolto, un sorriso, cercando di rendere meno doloroso e meno faticosa la vita in ospedale. Possiamo mettere il nostro nasino. Dobbiamo, io non l'ho portato per tutti voi, però noi quattro ce lo abbiamo. Lui ce l'ha già di su, qui abbiamo Massimo Marazzina, un altro grande campione del calcio. No, conosco bene, non posso dire benissimo l'argomento di cui stiamo trattando, perché avendo fatto un calciatore ho girato tante squadre, quindi mi è capitato anche, sfortunatamente come Massimiliano, di ricevere lettere, e sono andato ovviamente a trovare questi ragazzi, ed è vero l'attesa, insomma poi quando ti vedono è qualcosa che tu non puoi neanche descrivere, e non so se capita anche a voi, quando tu esci, cioè ti senti proprio, cioè rilassato, ti senti proprio contento di aver dato un qualcosa, anche con poco. Anche il contrario. Hai ricevuto da Torino, hai ricevuto da lì e dici mamma, io ho visto. Noi siamo anche a Torino, infatti è a Regina Margherita, che è un ospedale pediatrico. Nel 80 stavo lì. E basta poco, anzi, basta 4-5-5-0-2. Basta poco così. 4-5-5-0-2. Eh? Hai fatto il numero? Adesso perché tra l'altro campione, Gigi aiuta, presta la propria immagine. Parlavamo di Buffon, scusami Marco, parlavamo di grandi campioni che stanno facendo tanto. Perché poi devo dire, gli amici sportivi ci stanno aiutando molto. Ce ne sono altri, Massimiliano Natalia. No, 45-5-0-2, sms o chiamate anche da rete fissa, per cui così gli amici possono sia mandare un sms che... No, un messaggio, non dite, non c'è rispondo nessuno, vince. No, mi sarei arrivato. Ma sì, a cosa? Paolo ha un potenziale, fa ridere. Non sta rumbando il messaggio. Infatti fa la stanza ciò. Allora, io ricordo... No, ragazzi, questo di Gisarino non è stato il generale. Eh, sei avanzato, è colpa mia. È arrivato. Comunque, insomma, è un sms 45-5-0-2 oppure chiamata da rete fissa sempre al 45-5-0-2. Una frase importante che io amo sempre ripetere, che poi sintetizza un po' il lavoro che fanno i nostri dottor Sogni, è che quando non si possono aggiungere giorni alla vita, come capita purtroppo nei reparti in cui andiamo noi, si può aggiungere vita ai giorni, ed è esattamente quello che fanno loro. Quindi grazie a tutti voi, mandate tanti sms. No, grazie a voi per quello che fate, è una cosa comunque che ha radici storiche, che peraltro, se non sbaglio, sono gli Stati Uniti, no? Da una ventina d'anni. Beh, la fondazione nasce in Svizzera 21 anni fa. Il clown dottore nasce negli Stati Uniti per volontà di Michael Christensen, che è stato... Ma c'è anche un film su questo medico. Patch Adams è un meccanismo, lo scopo è il medesimo, solo che Patch Adams era un medico vero che faceva il clown finto per prescrivere meglio le terapie. Invece i nostri sono clown veri che fanno i dottori finti. Ma lo scopo è il medesimo. Eh, che bellissimo. Che poi vi portate lo scopo alla fine. Lo scopo è il medesimo. Massimiliano, Natalia, un po' con questi nasi rossi. Infatti la prima cosa che abbiamo fatto, per fare la campagna, abbiamo fatto le fotografie. Per immaginare Sofia, la piccolina non ci stava ancora, però insomma, Sofia, abbiamo iniziato questo gioco infinito, aspetta dove ci mettiamo, Sofia si metteva così. Questo è il modo per raccontare con semplicità, anche con il sorriso, è una cosa che ha una realtà vera che a volte fa paura, perché in effetti quando qualche volta trattiamo questi temi, Natalia, la lacrima scatta facilmente. Però se uno conosce queste cose, sai che vince molto di più il sorriso che uno regala a questi cucci. È bello che voi stelle, no, nel proprio mondo, lei nel ballo, sei una gioia per gli occhi, per veramente chi ti guarda, tu nel vuoto e anche nella televisione, è bello che questo possa servire da veicolo per aiutare. Certo, noi ci auguriamo che queste sono le cose importanti. Insomma, sappiamo benissimo che lo sport, lo dico sempre a quelli che vincono, che perdono, oggi si vince, domani si perde, bisogna sempre affrontare con il sorriso. E questo mi auguro che sia il principio di vita in tutto e per tutto. Perciò i genitori che si avvicinano a una sala, ad un bambino in difficoltà, possono contare su persone che veramente noi dietro le quinte, gli operatori un po' più da vicino, cercheranno di regalare comunque un sorriso, comunque un'emozione, che non deve mai smettere. Anche perché veramente basta, veramente poco. Non come ha fatto Ibrahimovic poco tempo fa, che invece si è rifiutato di fare l'incontro con un bambino, insomma, per una cosa del genere. No, invece, a proposito dei calciatori, come ricordavo giustamente lei, abbiamo il supporto anche di Gigi Buffon, che è stato grandissimo testimonial, ci ha prestato il volto per la campagna stampa e tv della fondazione, perché davvero ridere li rende più forti. Chi ha figli piccoli è ancora più sensibile, probabilmente è più sensibile, perché indubbiamente chi ha bambini riesce a capire quanto un sorriso valga. Certo. Ha maggior ragione quando il bambino è malato, perché è ancora di più importante accudire la parte sana di un bambino, perché anche quando è malato un bambino resta un bambino, e ha voglia comunque di giocare, di scherzare. E grazie ai dottor Sogni noi proviamo a farlo fare. Questa è la cosa che vi ha anche colpito Natalia, direi, no? Insomma, siete una famiglia, avete dei figli, è bello anche condividere questa cosa insieme, perché credo sia un percorso, come abbiamo detto prima a Paolo, che però lo fa tra virgolette per professione, quindi si allena anche mentalmente nello spirito, no? Però per una coppia, insomma, di successo, per cui la vita è tutta un sorriso nel senso bello del termine, credo sia un'esperienza molto forte. Io dico soltanto una volta purtroppo, ma per fortuna siamo finiti al bambino Gesù, perché è un problema alla piccolina. Però dico, abbiamo conosciuto che comunque c'è una realtà che si prende cura dei bambini, e immagino che, insomma, a un livello ovviamente molto più profondo, intenso, ci sono le persone che, medici, diciamo, addetti ai lavori, persone appunto come Paolo, come questa associazione, entro ad ora, pronti a dare comunque un sostegno, perché comunque sicuro il sorriso è un pezzo di luce, non un pezzo di buio. Poi il gioco insegna a raccontare, no? Magari attraverso il gioco puoi anche esprimere delle cose che... che l'importante è buttarle fuori, no? Poterle esprimere, e già quella è una guarigione con... Quindi Paolo, si va camera per camera? Assolutamente sì. Posso fare una domanda al dottor? No, l'intervento è individuale, costruito ad hoc su ciascun bambino, sulla base della patologia e dello stato di degenza, quindi... Sembra tutto più facile, no? Quanti ospedali siete attivi? In Italia sono 37 reparti, ogni anno visitiamo circa 35.000 bambini, quindi sono numeri importanti. Beppe, vai. No, volevo curiosamente, da parte del dottore, insomma, è chiaro che entrare in empatia di fronte alla sofferenza, diciamo, è relativamente facile, perché è un atteggiamento che fa parte un po' del nostro morale, no? Ma quello che un po' mi incuriosisce è come ci si rigenera da quello che uno apprende dalla sofferenza, cioè il ruolo che lei fa, come... perché è devastante, perché comunque immagazzini tutti quelli che sono gli aspetti della sofferenza pura, soprattutto per quello che riguarda... C'è anche la carica, quando a fine giornale... Come si fa per ricaricare, perché il giorno dopo che bisogna tornare di nuovo nei reparti, sappiamo... Ma anche da una porta all'altra, perché ogni volta che si apre la porta di una stanza si incontra una famiglia... Cioè, ci sono delle tecniche, perché, insomma, intanto complimenti, perché io, per esempio, non ci riuscirei perché metterei a piangere... E' un fatto anche caratteriale, questo... Sì, questo... Però sicuramente avete un modo anche per... Guardi, io qui ritorno sul fatto artistico, nel senso che comunque il fatto di... almeno a me, il fatto di essere un attore o comunque di essere anche un clown di strada un po' ti forgia ad andare comunque avanti, no? È chiaro che in ospedale, quando le cose un pochino... Cioè, l'importante è essere veri. Quindi a volte capita che in una stanza è successa una cosa talmente forte che ti mette in qualche modo a cappone nell'altra stanza, se è possibile, tu racconti proprio quello. Quindi doni a lui la tua verità, gli dicevano, in questo momento sto così, è successo questo e poi però... E poi c'è una formazione che la fondazione gestisce, sia iniziale che continua per i clown dottori, è una supervisione psicologica mensile che la fondazione... E questo è fondamentale. Grazie, purtroppo le cose belle finiscono sempre presto. Abbiamo il telegiornale che incombe, no? È la verità, questo è un argomento bellissimo del quale avremmo voluto parlare anche fino alle otto, però... No, no, grazie per questa opportunità. Il tempo è dire. 45, 502, grazie. 45, 502, grazie. Grazie, grazie a Paolo Di Santo, grazie all'Avvocato Emanuela Basso Petrino, grazie ai nostri ospiti di sempre. 45, 502. Grazie per averci portato questo messaggio e questo sorriso. Grazie. Grazie a tutti voi. Noi ci vediamo domani. A domani. Grazie a tutti.